Il Maestro Fernando Natale Di nuovo c'è che il panettone si evolve sempre di più, cambia proprio la struttura, cambia anche il concetto e il modo di approcciarsi al panettone sia agli impasti che agli ingredienti, anche perché oggi le diverse industrie ci propongono tanti prodotti nuovi e diversi dove possiamo spaziare, quindi è ogni anno una novità, lo stesso panettone. Allora io mi auguro di vederle anche per altre novità e le auguro buone feste. Sicuramente, cercheremo di dare fuori altre novità e di ritrovarci sempre qui in grande forma come lo siete adesso. Grazie mille. Grazie a voi.